Sepolto vivo in una casa di rifiuti. Non credevano davvero ai loro occhi i vigili del fuoco, i poliziotti, gli agenti della municipale e i sanitari del 118 che ieri mattina sono stati costretti a entrare in quell'abitazione nel tentativo di liberare un anziano dalla montagna di spazzatura, di oggetti di ogni genere e di escrementi in cui si trovava a vivere. Tentativo per il momento risultato vano, per la ferma opposizione dell'uomo che di fronte a quell'assembramento di gente che ai suoi occhi voleva sfrattarlo non ne ha voluto sapere di andarsene. Un gravissimo caso di disposofobia dall'inglese, difficoltà a liberarsi delle cose, quello di un 74enne pensionato piacentino che per anni in quell'appartamentino in affitto di 45 metri quadrati ha accumulato ogni genere di materiali utili e inutili da cibo ad altro senza mai buttarli via. Un disagio di cui si discute molto in campo medico ma che non viene ancora considerato una malattia psichiatrica vera e propria. Spesso le stesse vittime non si rendono conto di questo accumulo compulsivo che a lungo andare può portarli ad essere davvero seppelliti. L'uomo non ha più parenti, è solo e vive della sua misera pensione. Della sua situazione hanno iniziato a interessarsi i servizi sociali del comune all'inizio dell'anno dopo alcune sollecitazioni giunte dal padrone di casa preoccupato perché l'uomo non rispondeva più al telefono. L'hanno trovato a vivere in mezzo a montagne di cartoni, scatole di pasta, tegami, stoviglie sporche, soprattutto cumuli di rifiuti organici, bucce di frutta abbandonate sul pavimento, odori nauseabondi. Così ieri su sollecitazione dell'amministratore di sostegno sono intervenuti il 118, i vigili, la polizia e i pompieri ma hanno dovuto fare i conti con la contrarietà del pensionato. Da qui non me ne vado. Si è così creata una situazione di stallo che ora l'amministratore intende risolvere nel giro di pochi giorni.